Saranno i RIS di Roma a chiudere il cerchio delle indagini sull'omicidio di Sara Scazzi nel comando centrale della capitale in via Tor di Quinto. Gli specialisti condurranno a partire da oggi gli accertamenti tecnici irripetibili sugli effetti personali e su quello che resta dei vestiti della quindicenne scomparsa da vetrana lo scorso 26 agosto ritrovata in fondo a un pozzo dopo la confessione dello zio Michele Misseri nella notte del 7 ottobre. Il vertice nella sede del reparto scientifico dei Carabinieri si è appena concluso. Agli esami hanno partecipato il consulente di parte della famiglia Scazzi, l'ex comandante del RIS generale Luciano Garofano, l'anatomopatologo Carla Vecchiotti, consulente di Sabrina, figlia di Michele, chiamata in corretà dal padre. Per i risultati ci vorranno almeno due settimane, ha spiegato Garofano. Il RIS lavorerà parallelamente sul telefono e sulle tracce biologiche. Per la parte biologica, che darà chiarimenti sulla violenza sessuale e per i reperti trovati nell'auto di Michele, si avrà risposta per il fine settimana, mentre, ha detto Garofano, sulle tracce digitali e biologiche sul telefonino e sulla parte informatica che riguarda la SIM si saprà qualcosa la prossima settimana. Garofano ha spiegato che tra quelli sotto esame ci sono dei reperti che consentiranno di stabilire qualcosa sull'arma del delitto, anche se non ha detto se questa sia o meno inserita tra i reperti sotto esame. Io non credo nella svolta, ma è chiaro, ha concluso, che con questi esami ci saranno risposte obiettive dei tasselli fermi per stabilire risposte certe. Intanto stamattina, nell'abitazione dei Misseri, sono entrati il procuratore aggiunto di Taranto, Pietro Argentino, il PM Mariano Buccoliero, il colonnello dei carabinieri Antonio Russo e il medico legale Luigi Strada, che seguì l'autopsia sul corpo di Sara. In precedenza, circa un'ora prima, nella stessa casa, si erano recati due agenti di polizia giudiziaria, uscendone dopo una decina di minuti. Intanto a Taranto dovrebbe arrivare già oggi, con molta probabilità, la decisione del GIP sull'incidente probiatorio chiesto dalla difesa di Michele parallelamente alla perizia psichiatrica. Intanto la famiglia Misseri sta tentando disperatamente di salvare Sabrina dall'ergastolo e questa è la missione che Valentina, a quanto pare, sua madre, avrebbero preparato nel corso della scorsa settimana. Consigliata da qualcuno, la vera capofamiglia di casa Misseri Cosima ha mandato la figlia maggiore in carcere a far visita al padre, ufficialmente per portargli dei vestiti. In realtà, stando ai beni informati, avrebbe cercato di convincere il congiunto a sostituire il legale assegnato dall'ufficio del tribunale Daniele Galoppa e che poi Michele, invece, ha confermato nei giorni successivi firmandogli una procura. Da giorni l'avvocato Galoppa, in effetti, parla di pressioni che Misseri starebbe subendo per indurlo a nominale un nuovo legale suggerito dalla famiglia. Pressioni diventate più insistente, continua Galoppa, da quando il contadino di Avetrana ha annunciato una nuova confessione che potrebbe ulteriormente aggravare la posizione di sua figlia Sabrina e non solo. Oggi, intanto, sul fronte opposto, è intervenuto anche il legale della famiglia Scazzi. È una giornata importante e molto particolare perché alle indagini si ingiungeranno quelle scientifiche dei RIS e quindi ci saranno i primi riscontri fondamentali. Così, Walter Biscotti, legale della famiglia, uscendo dal tribunale di Taranto dove si è recato per formulare la richiesta di entrare in possesso degli atti che riguardano la scomparsa e la morte della piccola Sara. Gli inquirenti, a proseguito, hanno formulato un quadro accusatorio che ci sembra compatibile e confortante peraltro condiviso in pieno dal GIP nella sua ordinanza. Quando entreremo in possesso di tutti gli atti, allora faremo le valutazioni del caso. Fino ad allora avremo fiducia nei magistrati.